Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Vittime del Massacro. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. In certe parti del mondo la giustizia è solo un ideale perché ci sono persone povere e massacrate, perché chi comanda detta legge e con azioni brutali e malvagie fa sentire il peso del potere. Gente che chiede invece solo la pace, solo i propri diritti di vivere una quotidianità grandiosa e ricca di fede, di vivere una speranza, si sentono invece rispondere a colpi di pistola e di massacri. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Vittime del Massacro. In certe parti del mondo la giustizia è solo un ideale e il massacro per ogni povero è azione quotidiana brutale. Gente che chiede solo la pace e in cambio colpi di pistola, gente che vorrebbe solo esistere degnamente, lontano dalla malignità. Vittime del Massacro, vittime dell'umanità, povertà in aumento, tristezza nera ed infinita. I maliziosi dovrebbero fare un esame di coscienza e solo allora capirebbero il loro grado di indecenza. Grazie, condividete a tutti.